Siamo a metà stagione quindi possiamo fare un punto sulla situazione alla fine del gerone d'andata dei campionati e noi siamo soddisfatti, abbiamo avuto anche il tempo che ci ha assistito quindi non abbiamo avuto sostanzialmente momenti di difficoltà dal punto di vista meteorologico i campionati stanno andando avanti, sono campionati lunghi adesso abbiamo questo impegno di sabato prossimo, 23, a Celle Ligure con le finale di Coppa Italia fra l'Iva Samba e l'Imperia e siamo anche contenti che recentemente abbiamo partecipato all'estrazione, al sorteggio per la Region's Cup a cui parteciperemo come vincenti nel torneo delle regioni dell'anno scorso e siamo stati sorteggiati insieme a Malta, Romania e Croazia e organizzeremo noi in Liguria a settembre del 2024 questo evento e in più adesso siamo in fase di preparazione avanzata del torneo delle regioni che vedrà arrivare oltre 2.000 persone, 1.600 giocatori e 430 tecnici e dirigenti a fine marzo del 2024. Grazie Grazie